amici del canale un saluto a tutti voi ci troviamo davanti a una pianta di ulivo di tre anni la varietà è il mela e insieme al nolca è una varietà di ulivo dolce già dal primo anno da quando lo abbiamo messo a dimora abbiamo cominciato con delle piccole potature a dare alla pianta una forma a vaso libero nel video di oggi vedremo come addomesticare quattro bracchette nelle quattro direzioni ortogonali tra di loro in maniera da poter avere l'imbalcatura della futura pianta siamo in inverno siamo a gennaio e quindi per evitare delle gelate io non farò dei tagli alla pianta ma farò semplicemente delle piegature in maniera da cominciare a vedere l'imbalcatura della futura pianta e poi a marzo aprile quando faremo le potature con un video di aggiornamento vi farò vedere i tagli veri e propri che faremo alla pianta quindi come avete già capito in questo video parleremo della potatura di formazione del terzo anno però prima di iniziare come sempre permettetemi di invitarvi ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video il video sarà di vostro gradimento commentatelo e condividetelo con gli amici e mettete pure un like che è la gratificazione al lavoro che facciamo di settimana in settimana appena è stata messa a dimora la pianta già da subito abbiamo messo sia nel tutore che anche nel tronco della pianta queste strisce di lana che servono a non far salire sulla pianta lo ziorinco che di notte va a smanciucchiare tutte le foglie di fatti come potete vedere abbiamo delle foglie sane questo è il primo lavoro che bisogna fare non appena una pianta viene messa a dimora dopo il taglio che abbiamo fatto qui il primo anno nella stone a circa 90 centimetri un metro sono venute fuori queste queste branchette una questa che è quella che cercheremo di tenere all'opposto abbiamo questa questa qui di fronte abbiamo questa che sale così e da questa parte vedremo di far crescere quest'altra qui che sto toccando tutto il resto verrà tagliato come si può vedere ci aiuteremo con dei tutori vedete queste che saranno le nostre branche sono intanto sono dei succhioni quindi sono molto vigorosi prendono hanno preso il sopravvento su altri rami quindi noi cercheremo di piegarli a 45 gradi in maniera di far perdere vigoria e di conseguenza fare arrivare più linfa ai rami più deboli che ci interessano per formare l'imbalcatura e quindi irrobustirli ok iniziamo pure per poter fare perdere vigoria a questi rami più vigorosi questi succhioni e anche per indirizzare e domesticare gli altri rami nelle direzioni che noi vogliamo a 45 gradi useremo dei tondini di ferro che invilseremo nel terreno e poi legheremo questi questi rametti questi rami a questi tondini di ferro per evitare che con il vento possano sfregare contro il ferro abbiamo rivestito i tondini rivestiremo i tondini con dei tubi di plastica che non è un'ottima ecco fatto non abbiamo fatto altro che addomesticare questi succhioni che andavano verso l'alto e chiaramente prendevano più limpia diventavano sempre più vigorosi li abbiamo piegati a 45 gradi in maniera da cominciare a formare il vaso se ci avviciniamo faccio vedere i tagli che poi faremo come si può vedere qui dal tronco questo è troppo basso lo taglieremo dal tronco vedete parte da qui parte questa prima branca questo qui verrà tagliato qui e sarà questa la nostra branca che formerà l'imbalcatura da un lato dell'albero se andiamo qui verso il centro vedete ci sono già le branchette nelle quattro direzioni questo qui sono state piegate per il momento per cercare di appunto di indebolirle quindi vedere di far crescere questa vedere di far crescere questa perché saranno qui che si imbalcherà il nostro la nostra pianta 1 2 3 e 4 questa dietro quindi questo qui eventualmente verrà fatto un taglio qui oppure posso anche optare per tenere una di queste e tagliare quella sotto comunque queste come possiamo vedere sono tutte sul dorso sono dei succhioncelli che qualcuno verrà lasciato qualcuno verrà tolto quindi abbiamo formato il nostro vaso questa diciamo è una potatura di terzo anno per cominciare a imbalcare la pianta detto questo non mi rimane che ringraziarvi per la visione questo video per molti di voi magari sarà scontato però spero che possa essere utile a quanti si stanno avvicinando a questo meraviglioso mondo della coltivazione dell'olivo vi ricordo che in febbraio marzo uscirà il video di aggiornamento con i vari tagli per cui vedremo effettivamente come viene imbalcata la pianta mi raccomando non perdetevelo quindi non mi rimane altro che salutarvi e nello stesso tempo invitarvi ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video e se il video è stato di vostro gradimento vi ripeto commentatelo e condividetelo con gli amici e mettete pure un like un saluto alla prossima ciao ciao